È attesa a breve l'apertura del cantiere per i lavori dell'8-0. La Nassa ha infatti concluso la procedura relativa alla gara e ad aggiudicarsi l'appalto per 134 milioni di euro è stata la Vannini S.P.A. Procede dunque senza intoppi l'iter per il completamento del tratto di strada che collegherà il bivio di pesche all'8-1 dell'Isernia Castel di Sangro. Ma l'opera continua a far discutere tanto per l'impatto ambientale che avrebbe quanto per il rapporto costi-benefici giudicato inefficace da molti. Primo tra tutti il comitato no l'8-0. Il comune di Isernia che si era schierato contro l'opera presentando ricorso al Tar ha invocato ora una spinta ai tempi della giustizia amministrativa per anticipare la discussione dell'udienza di merito. Noi abbiamo chiesto a fine giugno inizio luglio attraverso un'istanza di prelievo presentata dai legali un'accelerazione sul liter presso il Tar affinché si giunga prima possibile una definizione di quelle che erano state le perplessità sul liter che era stato utilizzato e sul fatto che non c'era la cosiddetta opzione zero. Se si pone invece la domanda a farla o non farla è chiaro che qualcuno dirà sempre che è meglio una strada. Io direi che facciamo la stessa strada con meno soldi utilizziamo gli altri soldi per fare delle cose utili. E c'è aria di crisi nel matrimonio tra il comune e il comitato. Celeste Caranci, referente del gruppo, punta il dito contro il sindaco. Poteva fare di più accusa. Inutile piantare nuovi alberi senza evitare il disboscamento di quelli già esistenti. La domanda che faccio al comune perché non impugna invece anche sulle altre questioni non soltanto sulla questione della via che è scaduta cioè la valutazione di impatto ambientale. La domanda che faccio al sindaco e all'aggiunta e alla maggioranza comunale di Serni è questa. Hanno programmato, ho letto un programma di piantare 200 alberi prossimamente cosa buona per la città. Ma perché non facciamo di più, è qualcosa di più deciso rispetto a una devastazione di decine di migliaia di alberi. Il comitato intanto si rivolge alla prefettura affinché convochi la conferenza dei servizi. La conferenza dei servizi potrebbe riprendere un discorso sulle irregolarità che ci sono state nell'iter procedurale. Perché le irregolarità che noi da anni segnaliamo non hanno avuto alcuna risposta rispetto alle richieste che abbiamo fatto. E le voglio ricordare alcune. La prima è la mancanza dell'opzione zero rispetto all'analisi costo-benefici. E questa è una cosa gravissima che praticamente invaliderebbe già tutto quanto il percorso. Seconda cosa molto importante è il fatto che il Consiglio Comunale di Isernia non ha approvato nessuna variante al piano regolatore generale rispetto a un progetto definitivo. C'è un insieme di illegittimità e noi riteniamo anche di illegalità così palesi che invaliderebbero tutto il progetto. C'è un insieme di uscire il Popolo. C'è un insieme di uscire per il popolo. C'è un insieme di uscire per un blow di uscire per un ruote.